Allora, questa è Playa El Valle, che si trova nella zona della penisola di Samanà, in questa sorta di baia, dove si è ritornati indietro nel tempo perché il segnale del telefono non arriva, quindi per chiunque decida di venire qua sappia che la situazione è questa, non arriva segnale. Circondati dal verde, posto bello per chi vuole stare isolato dal mondo.